ok iniziamo ciao ragazzi e bentrovati in questo nuovo video piace il cappellino oggi un video molto breve semplicemente per darvi delle comunicazioni mi prendo una pausa mi prendo una pausa approfittando di questo periodo natalizio perché è stato un periodo molto intenso a livello lavorativo e voglio trovare nuove idee da portare sul canale per ripartire a gennaio faccio i miei migliori auguri di buone feste ci vediamo a gennaio ciao ciao